Il Signore sia con voi, dal Santo Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù entrato nel Tempio cominciò a scacciare i venditori dicendo Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri Ogni giorno insegnava nel Tempio, i sommi sacerdoti e gli iscrivi cercavano di farlo perire Così anche i notabili del popolo, ma non sapevano come fare perché tutto il popolo pendeva dalle sue parole Parola del Signore Mi copieva oggi questa parola perché oggi concretamente è la memoria di un martire giapponese È uno dei tanti della seconda ondata di persecuzione, quello di Ideyasu, nel 1613 La prima, quella famosa, la prima che poi dopo arrivò a martirizzare i 26 martiri di Nagasaki, San Paolo Michi Poi c'è stato un periodo di pausa, anche di pace, diciamo una decina d'anni, 10-12 anni E poi di nuovo una grande persecuzione che è durata durante secoli E molti morirono martiri in varie forme, in varie parti del Giappone, tra cui ancora Nagasaki E oggi è la memoria, diciamo, del beato Yoshida Kson Con sua moglie Interessante perché sono due laici Nati a Meako, cioè a Miako, Kyoto E poi dopo si trasferirono per varie ragioni a Nagasaki Dove incontrarono i padri della compagnia di Gesù Si convertirono E poi subirono il martirio E' interessantissimo perché nella loro casa Per questo mi colpiva oggi, la mia casa sarà chiamata La mia casa sarà casa di preghiera Ma voi ne avete fatto una spelonca di altri Nella loro casa ospitavano durante la persecuzione Durante questa seconda persecuzione ospitavano i catechisti, ospitavano i missionari Ma questo era un rischio enorme perché c'era un editto terribile per chi faceva questo E di fatto poi li scoprono Scoprono il marito Cercano, come sempre, di fargli cambiare idea Cercano di fargli ripudiare, abbiurare il cristianesimo Non ci riescono Lo bruciano Prendono e tagliano le ossa Dopo bruciato e lo buttano in mare Insieme ad altri, quattro Ma poi alcuni cristiani riuscivano a recuperare qualche ossa Adesso non si sa bene di chi sono, ma comunque E dopo tre anni, anche la moglie Subì il martirio Mi colpiva molto questo Ma io mi aiutava, no? Anche vivendo qui in Giappone Anche la missione che stiamo facendo, no? Questo era la casa Che sarà chiamata casa di preghiera Per tutti i popoli Qua dice casa di preghiera Ma poi è più lungo la citazione Perché? Perché oggi abbiamo detto il Vangelo di Luca Ma nel Vangelo di Marco si capisce meglio Dove avviene questa purificazione del Tempio Avviene nel cosiddetto cortile dei gentili Quello dove praticamente arrivavano i pagani È interessante perché forse non è così chiaro Ma dentro al Tempio Nel luogo più santo per Israele C'era un posto dove potevano arrivare i pagani E bellissima Un'immagine Un'immagine Sì, un'immagine che ha dato Benedetto XVI Mi aiutò tantissimo Dicendo che un pochino questo come un gancio Questo cortile dei gentili L'immagine della missione della Chiesa Cioè dove in qualche modo Anche non credendo Anche non diventando cristiani, eccetera Le persone possono agganciarsi al Tempio Cioè a Cristo Ebbene, questa è la nostra missione Cioè tutta la nostra vita Un pochino come queste persone, no? Questi due martiri Questi martiri giapponesi Che oggi celebriamo Che oggi festeggiamo Che aveva offerto la sua casa Ai missionari No? A rischio della propria vita Perché? Perché attraverso i missionari Il Vangelo arrivasse A Giappone E aiutasse E come dire Questi padri missionari Potessero nutrire No? Quelli che erano Inventati già cristiani, eccetera No? Però in questo luogo Che è la nostra vita Che è come un atrio dei gentili Come un cortile dei gentili Se tutto quello che a noi ci è stato dato È perché il pagano che è accanto a te Possa incontrare Cristo Non necessariamente va dalla Chiesa, no? Quindi tutta la nostra vita Possiamo dire Tutto quello La nostra vita Quello che noi viviamo È questo atrio Questo cortile dei gentili Tante volte abbiamo tante nevrosi La missione La missione bisogna fare Chissà che cosa Bisogna stare È un miracolo enorme Stare dove stai E viverlo Nel nome di Gesù Cristo E questo è il grande atrio dei gentili La famiglia che vive cristianamente Che vive Che vive la volontà di Dio In un posto pagano Che lavora O che sta dove nessuno può stare In questo fuoco In questo fornace ardente Che è la solitudine Che è il non senso Tante volte Non capire perché Uno potrebbe fare tante cose Invece non fa nulla La morte La morte del nostro ego Del nostro io Bene, tutto questo noi Dice 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 Il Signore Ne avete fatto una speronca di là Dice proprio lì Dove bisognava Avere attenzione Ai pagani Cioè In modo che Questo è diventato Un luogo di Commercio Di ruberie Al pagano Cioè a chi mi sta accanto Perché molte volte Il pagano è il marito No? È la moglie È il figlio Che perde Che non capisce perché Che non sa cosa deve fare Che No? Non è pagano Ma è pagano Aspetta da noi Cioè dai cristiani Da chi sta accanto Un quartiere Dove agganciarsi A Cristo Dove aggrapparsi Questa frusta Che spacca la nostra carne Cioè arriva Arriva la storia Arrivano i fatti Che ti umiliano E ti mostrano Che tu Di zelo Niente Ma non perché lo hai perduto Ma perché non ce l'hai mai avuto Che a te Che a te non ti interessa Perché se ti interessa La mente della persona Fai la volontà di Dio No No i tuoi piani pastorali O le tue idee di madre Di padre Tu fai quello che Aiuta Aiuta tuo figlio Aiuta tuo marito Aiuta tua moglie Aiuta le persone Che stanno accanto a te La tua Vita di tutti i giorni Nella solitudine Nella debolezza Nella povertà Nel silenzio All'ultimo posto Più che mille E diecimila parole Anzi che quelle Forse non servono Che non ascoltano Come si dice Misteriosamente E' questo il coltile dei gentili Che Gesù viene a purificare Cioè a rimetterci Dentro la volontà di Dio Dico questo perché Perché proprio oggi Questo che ha dato la vita Si è giocato la vita A questo uomo Per ospitare Per fare della sua casa Una casa di preghiera Ha dato la sua vita Si è giocato la sua vita Come Cristo Perché questo è Io amo pensare A questo portiere dei gentili Come il fianco Di Cristo Squarciato No? Dove è uscita l'acqua E il sangue Dove sono uscite l'acqua e il sangue Cioè E' lui che A noi Che siamo pagani Veramente Che abbiamo trasformato La nostra vita In un luogo Dove rubiamo l'onore Rubiamo la dignità Rubiamo Sì l'altro Lo nullifichiamo Lo usiamo Ci mormoriamo contro Costantemente ci ribelliamo Bene Questo luogo Orribile Che noi abbiamo trasformato In una Queva Come dice Una spelonca Di ladri Cristo Ha il potere Oggi Di trasformare Quello Nel posto più santo E più importante Della terra Cioè Trasformare La mia debolezza La tua debolezza In una porta Di speranza Da tutti i popoli E questa è la cosa Più grande Il mistero che oggi viviamo Nella chiesa Con i sacramenti Con la parola Cristo Viene E come viene Cristo A purificare Ha il potere Di trasformare Quello che io e te Abbiamo ridotto In un posto Dove commerciamo Dove ci prostituiamo Dove facciamo compromessi Con gli altri Dove vendiamo Il nostro corpo Vendiamo Ancora meglio di prima Più bella di prima Perché Perché il pagano Incontrerà in me Incontrerà in te Cioè Chi ti sta accanto Chi ci sta accanto Incontrerà misericordia Pazienza Non incontrerà moralismo Incontrerà una persona Esattamente come lui Quello che avevano perduto Gli ebrei Alcuni ebrei Almeno Che pensavano di essere meglio Questo non che va Il fariseo che va a pregare Io non sono come l'altro Invece Questo ganto Ciò che Dio vuole offrire al mondo Attraverso le famiglie Che sono in missione Attraverso noi Tutti Quelli che sta Una vecchietta Che sta non so dove In un ospedale Da sola È questo Questa parola di amore Questa misericordia Che non è giudizio Che accoglie le persone Così come sono Le vuole bene Mostrando con la vita Qual è la verità Libere Libere di dire la verità Libere di Però che c'è lì Un cuore libero Un cuore dolce Un cuore Che è quello che fanno Che ha fatto questo uomo Fino a giocarsi la vita È morto È morto per questo Per fare della sua casa Un tempio Allora che il Signore Che il Signore ci conceda Di fare della nostra casa Un tempio Dove tutti possano trovare riposo Dove tutti possano trovare Un'accoglienza Nella verità Nella giustizia Non che tutto va bene No Ma sapendo che Nel momento in cui Dici la verità E la testimoni Nella tua carne Perché sei disposto A giocarti la vita Per quella verità Nel momento in cui Tu annunci la verità Stai dando la tua vita Stai dando il sangue di Cristo Attraverso di te Attraverso i tuoi vene Che Perdona Chi nella verità Non vive Chi nella verità Non è capace di vivere Perché Perché è pagano Questa è la La missione La chiamata Che oggi il Signore ci rinnova Anche attraverso Questo Questo beato giapponese Che Insieme Vi invito a pregare Yoshida Son E sua moglie Maria Reiamo